Musica Mercoledì 26 ottobre, buona giornata a tutti dalla redazione di Udinese TV e ben ritrovati in diretta con il nostro primo appuntamento di giornata la rassegna stampa che andremo tra poco a commentare assieme alle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali su tutti i campeggi al primo voto di fiducia ottenuto dalla nuova Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ieri alla Camera, oggi sarà il giorno del Senato andremo tra poco dunque a leggere anche i commenti e le analisi sul post voto e soprattutto sull'intervento con le linee programmatiche del Governo prima però andiamo a dare un aggiornamento di cronaca rispetto a delle ricerche che sono ripartite stamattina per un uomo che non ha più notizie di sé nella zona di Sgonico a Trieste, anche da stamattina al lavoro i volontari, i tecnici del Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco le forze dell'ordine per un uomo di 53 anni che è uscito dalla sua abitazione di Trieste ha fatto perdere le tracce appunto la posizione del campo base allestito nel pomeriggio di ieri dopo l'attivazione del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse è stato modificato nel corso della nottata appena trascorsa è stato spostato dagli slarghi esterni della stazione dei carabinieri di Prosecco a Borgo Grotta, Sgonico appunto, sul posto stanno operando diversi uomini giunti anche dalle squadre comunali di protezione civile di Duino Urisina, Sgonico, Trieste e Muggia oggi si scenderà in campo anche per la ricerca con le unità cinofile delle associazioni della protezione civile i volontari della PC operano assieme agli uomini del Soccorso Alpino e alle forze dell'ordine come detto. C'è stato poi un altro aggiornamento che arriva invece dall'autostrada A28 con un incidente stradale accaduto attorno alle ore 4 di stamattina tra i caselli di Sacile Est e Sacile Ovest in direzione Conegliano nel territorio comunale di Sacile per causa ancora in corso di accertamento da parte della Polstrada sul posta sono intervenuti appunto gli agenti dove si era verificato un tamponamento che ha visto coinvolti una vettura e un camion all'interno dell'auto viaggiavano 5 persone tra cui 2 minori 3 dei quali hanno riportato lesioni serie dopo la chiamata di aiuto sul posto i sanitari della Sores con più mezzi, le ambulanze giunte da Pordenone e Sacile una persona è stata trasportata in elicottero al Santa Maria della Misericordia di Udine le altre sono state trasferite in codice giallo all'ospedale di Pordenone rallentamenti anche alla viabilità nel tratto interessato dall'incidente questo per quanto riguarda la cronaca ora andiamo, dicevamo, alle prime pagine dei quotidiani nazionali partiamo col Corriere della Sera il titolo in apertura fisco e riforme il sì a Meloni il nuovo governo con la fiducia alla Camera tregua sulle tasse e sul presidenzialismo ma mai simpatie per il fascismo PD e 5 Stelle è un'estrema destra e poi ancora gli approfondimenti con le opposizioni Letta che dice saremo inflessibili sulla carta poi ci sono le aperture invece del terzo polo c'è l'intervista al ministro della difesa Crosetto l'orizzonte di 10 anni uniti sulle armi a Kiev e poi racconto e l'aula alla presidente Underdog e quel tu a Sumahoro questo per quanto riguarda la politica andiamo su Repubblica dove ritroviamo gli stessi temi con altre letture Meloni l'equilibrista, così viene giudicata nel giorno della fiducia alla Premier che si presenta alla Camera con un discorso in cui prova a rassicurare l'Unione Europea ma senza rinunciare al sovranismo non ho cambiato idea su niente, dice in cassa 235 sì, 154 no il PD e Conte sarà un'opposizione dura il terzo polo è pronto a collaborare sull'inchiesta Covid telefonata con il presidente americano Biden nel frattempo il ministro dell'interno Piantedosi inizia la crociata contro le ONG i porti saranno chiusi all'interno all'Europa digitale i migranti e le riforme del fisco le 5 sfide alle quali sarà chiamata a rispondere l'esecutivo e poi di taglio basso il fronte dei diritti comincia le rassune anche in Inghilterra nel Regno Unito con i figli dei profughi che trasformano in realtà il sogno britannico e poi invece lo sport la Champions la Juve che combatte ma non basta perde 4-3 con il Benfica ed è fuori dalla Champions e poi il reportage nel teatro Dubrovka dove inizia l'orrore 20 anni per capire chi è davvero Putin la Repubblica ci trasferiamo sulla stampa di Torino l'Italia secondo Meloni io underdog il mito della donna presidente questo è il tema centrale che è riecheggiato anche nei vari racconti della seduta di ieri allora andiamo a riascoltare proprio il passaggio in cui anche la Meloni cita alcune delle sue linee d'azione per questo mandato non sarà una navigazione facile quella del governo che si appresta a chiedere la fiducia al Parlamento per la gravosità delle scelte che saremo chiamati ad affrontare ma anche per diciamo così un pregiudizio politico che spesso colgo nelle analisi che ci riguardano credo però che in parte sia giustificato in fondo io sono la prima donna che arriva alla presidenza del Consiglio vengo da una storia politica che è stata spesso relegata ai margini della storia repubblicana e non ci arrivo tra le braccia di un contesto familiare favorevole o grazie a amicizie importanti sono quello che gli inglesi definirebbero un underdog quello diciamo così che deve lo sfavorito che per riuscire deve stravolgere tutti i pronostici è quello che intendo fare ancora stravolgere i pronostici con l'aiuto di una valida squadra di ministri e sottosegretari con la fiducia e il sostegno di chi sceglierà di votare per noi con le critiche che arriveranno da chi voterà contro questo governo perché alla fine alla fine di questa avventura a me interesserà una cosa sola sapere che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per dare agli italiani una nazione migliore a volte riusciremo a volte falliremo ma state certi che non indietreggeremo non getteremo la spugna non tradiremo nel giorno nel giorno in cui il nostro governo ha giurato nelle mani del capo dello Stato ricorreva la memoria liturgica di Giovanni Paolo II un pontefice uno statista un santo che io ho avuto l'onore di conoscere personalmente mi ha insegnato una cosa fondamentale della quale io ho sempre fatto tesoro la libertà diceva non consiste nel fare ciò che ci piace ma nell'avere il diritto di fare ciò che si deve e dunque avete ascoltato uno dei passaggi del discorso della Meloni che oggi lo ricordiamo andrà a parlare all'aula del Senato per ottenere anche la seconda fiducia torniamo sui quotidiani andiamo sul fatto quotidiano che titola Abbasso i poveri Giorgia Meloni il discorso della Camera la fiducia con 235 sì 154 no reddito no con 2 no sì parole molto identitarie nulla di preciso sul caro bollette ma mai citati Salvini e Berlusconi mai nominata la pace e poi di taglio alto il papa mediatore ok da Putin Biden tace Meloni avvia un nuovo decreto armi giustizia idee e grane nordio ricevo i sindaci tolgo l'abuso d'ufficio e poi valditare Bernini scuole e Atenei il merito sarà figlio di Gelmini andiamo sul sole 24 ore Meloni in manovra solo il caro bollette sfruttare di più i giacimenti di gas italiani il discorso del Premier per la prima fiducia alla Camera Bonomi di Confindustria Bene su Europa lavoro lavoro imprese prossima settimana a tavolo con le parti sociali e poi ancora il fisco mini flat tax premi anti evasione sugli incassi il cuneo fiscale il taglio di 5 punti il presidenzialismo la priorità per le riforme e poi il debito nel 2023 sul mercato 42 miliardi di nuovi BTP dal sole 24 ore ci spostiamo sull'identità il quotidiano diretto da Tommaso Cerno l'EDM e il vuoto con i 5 stelle per fermare Meloni il colloquio con Francesco Boccia firma del direttore del quotidiano e poi il vuoto a sinistra appunto con l'analisi di Bobo Craxi ma quale retorica questa destra vuole durare l'intervista di Domenico Pecile la supplica di Bergoglio per la pace possibile il Papa in preghiera al Colosseo mentre l'Europa rinvia ancora la decisione sul gas andiamo avanti con le altre prime pagine dei quotidiani ci spostiamo sul manifesto povera patria questo il titolo con la foto di un momento dell'intervento della Meloni che incassa la prima fiducia a Montecitorio con una fiera esibizione della propria biografia politica nel suo discorso identità estremismo liberismo attacco all'antifascismo stop ai barconi dall'Africa sport contro la cannabis e simpatia per chi manifesterà contro il governo ma all'università la sapienza di Roma la polizia carica gli studenti andiamo avanti con il giornale giorgia cambia marcia esorde la camera fiducia al governo Meloni 235 e sì lei chiude i conti con la storia mai avuto simpatie per il fascismo poi lancia il presidenzialismo e la tregua fiscale Berlusconi discorso condivisibile contributo serio da forza Italia e poi tra le analisi rispetto al discorso cani sciolti di tutte le taglie unitevi l'elogio degli underdog l'abbiamo ascoltato e le navi delle ONG che sono fuori legge il ministro degli interni piantadosi che fissa già la sua agenda andiamo sulla verità la sua destra libera Meloni ottiene la fiducia alla camera con un discorso identitario chiaro e concreto netta la presa di distanze dal fascismo la parola d'ordine è libertà così riassume Maurizio Belpieto e poi ancora speranza va in soffitta ora via agli obblighi sul contrasto al covid il premier non lascia spazio agli equivoci il metodo cinese è archiviato per sempre ci sono però due cose da fare subito riportare in ospedale i medici non vaccinati e lo stop all'isolamento andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero avanti a destra il discorso del presidente l'economia di Georgia riforma fiscale trivelazione ai nuovi accordi sull'unione subito commissioni di inchiesta covid ma è più restrizioni liberticide poi già sequestrate due navi ONG sulle riforme si fanno anche senza PD e 5 Stelle e poi a centro pagina lo spiraglio di Putin trattare con il Papa l'incontro con Macron a Roma andiamo a vedere anche la prima pagina del foglio quotidiano una bella sorpresa il sovranismo con il Loddl niente trumpismo niente anti-europeismo perché il primo discorso di Meloni è un problema per l'opposizione e poi ancora l'omeopatia sovranista le pirouette economiche di Meloni per schivare l'effetto Liz Truss flattex rinviata e sulle pensioni segue Draghi vaghezza invece sul reddito di cittadinanza ma il condono c'è andiamo ora sul gazzettino l'apertura del quotidiano così cambierò l'Italia stravolgerò i pronostici il discorso i piani di Giorgia Meloni sul fascismo mai avuto simpatie la riforma del reddito il presidenzialismo la tregua fiscale la fiducia alla camera con 235 sì e 154 no ottiene la fiducia e poi sempre dal gazzettino le altre notizie uno studente spara la prof in classe il video va sui social a Rovigo sospesi tre ragazzi la docente colpita la testa con i pallini di gomma di una pistola ad aria compressa e poi dall'interno delle pagine del gazzettino veniamo ai temi legati al nostro territorio l'apertura del dorso della Friuli Venezia Giulia con anche in questo caso le ripercussioni economiche le richieste al governo i lavoratori introvabili l'SOS punto all'esecutivo Fedriga dice sarà la prossima emergenza da affrontare dal settore del turismo l'allarme si sposta nelle fabbriche prima mancavano solo i saldatori adesso tutti si lamentano perché l'offerta è superiore alla domanda del ruolo delle scuole proprio sul fronte della ricerca ai lavoratori ieri c'è stato un importante annuncio per un nuovo recruiting day a Pordenone si cercano nuove figure professionali e andiamo a fare il punto nel servizio di Giulia Soligon una giornata per favorire l'incontro tra candidati e aziende è il job day fissato per il 25 novembre alla Link Experience Factory di San Vito al Tagliamento un evento organizzato dall'Agenzia per il Lavoro Umana e la Regione Friuli Venezia Giulia con l'obiettivo di accorciare quella distanza ancora forte tra l'ampia offerta di lavoro e la difficoltà a reperire personale 15 le aziende aderenti all'iniziativa 210 le figure professionali ricercate non solo attività di recruiting il job day è rivolto anche agli studenti per i quali sono previsti nella stessa giornata laboratori di orientamento e di formazione che agevolino il loro ingresso nel mondo del lavoro è importante dare un supporto ai giovani e dare degli strumenti con i quali possono affrontare in maniera più serena posso dire e competente il mondo del lavoro sono opportunità che noi dobbiamo dare in maniera sistematica al territorio modificando sostanzialmente quello che è stato un approccio non sempre proattivo da parte di tutti i soggetti impegnati per noi l'obiettivo è creare lavoro creare lavoro di qualità superare questa fase di difficoltà e poter permettere ai giovani di entrare all'interno del mondo del lavoro e a chi ne esce di rientrarci il più presto possibile continuiamo con le notizie locali risse aggressioni da lunedì in città arriva all'esercito tre militari ruoteranno nell'arco delle 24 ore sette giorni su sette accadrà appunto a Udine poi danni del maltempo con frane allagamenti dalla Valresia alle valli del Natisone la maglia nel pantografo del treno in tilt l'intera linea con ripercussioni nel trasporto ferroviario e poi in Carni è partito il nuovo ITS una montagna attrattiva che trova nuove figure professionali ricercate dalle aziende anticipazioni di sport ne andremo a parlare tra poco l'udinese con Becao che non giocherà neppure a Cremona mentre sul basket l'All Wild West recupera nobile Sherrill a Rimini per tornare al successo andiamo all'interno delle pagine del Gazzettino per approfondire alcuni temi lavoratori introvabili l'appello al governo Federica cresciamo ma le nostre aziende non riescono ad assumere perché manca mano d'opera non è più solo un problema del commercio l'ultimo allarme è arrivato dalla montagna la titano appunto gli stagionali per lo sci abbiamo visto l'offerta dei 200 posti a San Vito con la LEF che guida le assunzioni e poi ancora la carenza dei farmacisti ne servirebbero 120 in tutta la regione si lamenta anche Federfarma l'offerta è molto inferiore alla nostra domanda e la campagna vaccinale inizia in salita la politica con l'IVA in pole position da Jaul outsider il PD sceglie la guida definite le candidature una partita tutta interna alla provincia di Pordenone entrambi gli sfidanti non fanno drammi sarà un buon esercizio di democrazia questo per cercare il dopo Sciaul e la guida dei DEM regionali in consiglio invece è iniziata la discussione sull'assestamento autunnale rinvio dell'IRAP alle imprese l'opposizione all'attacco era meglio ridurre la tassa violenze da lunedì l'esercito a Udine iniziano i pattugliamenti tre militari ruoteranno nel corso delle 24 ore sette giorni su sette ieri una donna è stata colpita con un calcio alla schiena da un uomo mentre stava guardando le vetrine in centro situazioni dunque che continuano ma che con l'intervento appunto dei militari ci si auspica possano venire limitate militari che dicevamo si sposteranno tra la zona di Borgostazione e l'ex caserma Cavarzerani ne ha parlato ieri anche l'assessore alla sicurezza Ciani al termine del tavolo provinciale per l'ordine della sicurezza abbiamo preso atto del fatto che ci sia la disponibilità da parte dell'esercito di aiutare le forze di polizia nel contrastare gli episodi che si verificano in alcune zone della città e quindi dalla prossima settimana i militari dell'esercito supporteranno le forze di polizia sia per quanto riguarda il controllo del territorio nella zona della Cavarzerani sia nel quartiere delle Magnolia quanti saranno i militari impiegati e con che fasce orari le pattuglie dei militari sono formate da tre da tre militari e l'attività è un'attività molto rilevante perché hanno garantito di essere presenti H24 e 7 su 7 per quanto almeno al momento si prevede il loro impiego non c'è una data di fine quindi ci auguriamo che questa attività questo supporto possa proseguire per tutto il tempo che sarà necessario per ridare una serenità ai cittadini che la richiedono è stato fatto anche il punto sui controlli che sono stati intensificati in controlli interforze nei giorni scorsi si sono numeri rilevanti e anche con risultati rilevanti c'è stato un arresto ci sono state numerose denunce c'è sanzioni quindi significa che il lavoro da fare c'è ma non ci accontentiamo sono già state programmate altre attività interforze per i prossimi giorni e questa è un'attività fondamentale che va continuata con sempre maggior forza questi ultimi ricontrolli sempre nell'area di Borgostazione? Assolutamente sì abbiamo però anche parlato di altri luoghi con il questore insomma l'attività da fare è tanta però c'è una grande sinergia comunanza di obiettivi tra tutti i partecipanti al comitato quindi questo sicuramente rappresenta un ottimo elemento di partenza Continuiamo con i quotidiani locali ci spostiamo sul messaggero Veneto all'apertura Pannelli fotovoltaici la consulta bocce e vincoli della regione la giunta aveva negato l'installazione sui terreni agricoli l'assessore abbiamo tentato di anticipare l'esecutivo e poi presidenzialismo e trago fiscale nel governo Meloni richiamo all'agenda del nuovo esecutivo allagamenti aresi e altre frane in Friuli con l'ondata di maltempo che ha interessato molte località la scorsa notte la cronaca riassunta in prima Udine la burocrazia frena la costruzione di due isole ecologiche a Codroipo sono in ritardo i rimborsi per le rette sei asile a rischio chiusura e poi all'incrocio di Pertegada ha bloccato dai rincari il cantiere della Rotonda andiamo all'interno per vedere le notizie dedicate alla città di Udine in particolare le isole ecologiche nei condomini la burocrazia frena e cantieri la giunta ha approvato i progetti per via Malborghetto e Fiducio rinviati invece in via Sabadini e Monte Grappa le aree individuate sono piazza primo maggio riva Bartolini piazza libertà e via moretti il costo previsto 508 mila euro all'interno andiamo a vedere anche la situazione post maltempo con la Varresia nuovamente colpita un'altra frana c'è il rischio di un nuovo isolamento il sindaco Micelli avremo spesso forti piogge servono le barriere paramasse alberi caduti sulla strada in diversi comuni a causa delle intense precipitazioni e nel servizio di Francesca Santoro andiamo dunque a riassumere quello che è successo alberi di velti e rami spezzati cantine allagate e frane perfino la vetrina di un supermercato crollata le consistenti piogge cadute nella notte hanno causato danni importanti in regione il forte temporale che si è abbattuto tra le 4 e le 5 del mattino sull'Isontino ha lasciato una lunga scia di piante cadute a Savogna di Sonzo tanto che la squadra comunale di protezione civile stamattina ha dovuto rimuovere quelle che si sono schiantate lungo la viabilità in aree private e di accesso pubblico gravi i danni causati al supermercato di più la cui vetrata affacciata lungo la strada provinciale di accesso al paese ha letteralmente ceduto a causa delle raffiche di vento travolgendo gli scaffali retrostanti e tutti i prodotti in esposizione forti precipitazioni fulmini e vento hanno appunto lasciato il segno anche a Capriva del Friuli a Farra di Sonzo e a Romance moltiplicando le richieste d'aiuto al comando provinciale dei vigili del fuoco disagia anche la stazione ferroviaria di Gorizia dove si è verificato un principio di incendio immediatamente domato e a conferma delle consistenti precipitazioni alle 5 di stamattina il gestore della diga di Salcano in Slovenia ha comunicato il possibile superamento del valore di scarico del primo livello di guardia di Risonzo allarme che poi fortunatamente non ha avuto conseguenze i volontari della squadra comunale di protezione civile di Faedis insieme agli operai del comune sono intervenuti nella parte alta del paese per riportare la situazione alla normalità in particolare è stato bonificato un tratto di strada interessato da uno smottamento nella frazione di Gradi Schiutta fino alla tarda mattinata il personale del comune di Castelnuovo del Friuli con il supporto dei volontari della squadra comunale di protezione civile ha lavorato per liberare la viabilità da materiale argilloso e pezzi di muro di contenimento crollati riempiendo sei camion la frana interessato il tratto di strada tra la borgata di Celante di Castelnuovo del Friuli e la frazione di Manazzons di Pinsano il Tagliamento ci spostiamo ora sull'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto in primo piano l'eco navetta per il centro città in arrivo l'autobus dei rifiuti serve a rafforzare la raccolta porta a porta e a compensare l'eliminazione dei cassonetti stradali questo anche il grafico con la mappa dello spostamento una linea gialla e una linea marrone con la possibilità poi di conferire carta cartone imballaggi in plastica e ci sono le varie fermate si partirà ogni martedì nei giorni festivi esclusi con una linea gialla esterna a ring e la linea marrone invece che partirà da dicembre dall'edizione del messaggero di Pordenone ci spostiamo ora sul piccolo a Trieste in apertura ritroviamo la politica con il governo Meloni il sì alla fiducia e poi il ministero del mare con i terminalisti che attendono di conoscere la sua operatività tra tese e dubbi il mondo della portalità chiarezza sulle competenze è meglio una guida unica sotto le infrastrutture anche perché la parte del ministero delle infrastrutture è già arrivata una specifica rispetto alla alla delega sulle sui porti sul fronte lavoro invece Varsela il piano per ripartire restano i tagli e poi l'SBE che si assicura il gas liquido già da febbraio questo accade a Monfalcone dall'edizione di Trieste ci spostiamo su quella di Gorizia con le notizie in primo piano nell'Isontino alzare la guardia contro i furti nelle case l'appello del prefetto Ricciardi e i cittadini chiudete porte e tapparelle oggi ci sarà il vertice con tutti i sindaci dell'Isontino coinvolgere l'esercito nell'attività di controllo mi pare prematuro i comuni sono già presidiati ha dichiarato Raffaele Ricciardi dunque che oggi sarà a faccia a faccia con i sindaci del territorio tanti gli episodi nelle ultime settimane con le pattuglie in borghese poi nei paesi questa è una delle prime misure ne andremo a parlare anche nel corso della giornata seguendo proprio il tavolo per l'ordine la sicurezza dedicato alla provincia di Gorizia ora è tempo di sport andiamo a dare un'occhiata ai quotidiani sportivi nel day after alla serata di Champions che ha visto sorridere il Milan vittorioso 4 a 0 a Zagabria contro la Dinamo e invece piangere la Juventus che saluta la Champions League partiamo con la gazzetta dello sport Milan boom Champions a due facce Pioli sogna allegri fuori rossoneri come ai bei tempi strepitoso 4 a 0 a Zagabria tonali layout trascinatori il 2 novembre in casa con il Salisburgo basterà il pari per gli ottavi Juve troppo tardi il fallimento bianconero il Benfica ne fa 4 la svegliano solo i ragazzi del 2003 provando ad accorciare le distanze oggi gli altri due italiani in campo il Napoli che cerca il gol da primato per evitare le grandi d'Europa alle 21 al Diego Armando Maradona contro i Rangers di Glasgow l'Inter invece occasione d'oro a San Siro alle 18.45 se batte il Victoria Pilsen è qualificato Lukaku in panchina andiamo sulla prima pagina della Corriere dello Sport Juve all'Inferno Champions notte da incubo per i bianconieri il diavolo prende il volo Max cade a Lisbona per la prima volta fuori dagli ottavi 4-3 Sinfonia a Milan 4-0 a Zagabria ora basta un punto e poi ancora inzaghi a testa bassa è una finalissima Spalletti vuole tutto non faccio sconti c'è anche un focus sui bilanci rispettate le regole la Juve che si difende dopo le sentenze a proposito di invece Firenze sulla rissa di domenica con l'aggressione a un tifoso nerazzurro c'è l'inchiesta da parte della magistratura andiamo alla tutto sport chi paga i danni Juve già fuori dalla Champions almeno 25 milioni di mancati introiti provocati da una rosa e da un allenatore che ne guadagnano 175 a stagione errori difensivi imbarazzanti difettano sempre intensità e precisione healing protagonista nel finale con due assist l'unica scintilla nel buio andiamo a vedere anche gli altri risultati delle sfide nel gruppo e quello del Milan il Chelsea ha superato 2 a 1 il Salisburgo nell'Effe il Celtic ha pareggiato 1 a 1 con lo Shakhtar di Donetsk sconfitto invece Real Madrid in casa dell'Ipsia Siviglia Copenaghen tra 0 per gli Spagnoli 0 a 0 invece tra Dortmund e City City che comunque si qualifica agli ottavi nel gruppo H quello della Juventus il Paris Saint Germain dilaga contro il Maccabi Haifa 7 a 2 oggi le sfide dicevamo oltre a Napoli Rangers e alla sfida tra Inter e Victoria Pilsen in campo Ajax Liverpool Brugesport Atletico Leverkusen Barcellona Bayern Francoforte Marsiglia e Tottenham Sporting Lisbona Andiamo ora all'interno delle pagine della Gazzetta dello Sport anche per ritrovare i temi legati all'Udinese che lavora in vista della trasferta di Cremona con la formazione di Mister Sottil dunque che vuole ritornare subito all'attivo dopo il passo falso in casa contro il Torino nel servizio della nostra redazione sportiva andiamo a fare il punto della situazione Un dispiacere uno sgambetto una lezione è stata descritta dai diretti interessati con questi termini la sconfitta dell'Udinese che domenica è caduta per mano del Torino in quello che è stato soltanto il secondo K.O. in campionato il primo alla Dacia Arena un incidente di percorso quindi nulla di più ed è così che deve essere interpretato perché se è vero che il K.O. subito contro Monza in Coppa Italia era stato accompagnato da una prestazione altalenante quello contro il Torino è stato un match che l'Udinese ha perso per la troppa voglia di vincere un match che i bianconeri hanno condotto dall'inizio alla fine tenendo sempre in mano il pallino del gioco e cercando sempre la vittoria come ha ribadito un sottile comunque contento di quanto fatto vedere dalla sua squadra contento per l'atteggiamento perché se provi sempre a vincere di sicuro saranno più le partite che vincerai che quelle che perderai e questa filosofia ci piace ci piace come adesso quindi è obbligatorio concentrarsi subito sul prossimo avversario prossimo avversario che si chiama Cremonese una Cremonese che sembra davvero in preda ad una crisi di panico la squadra di Alvini gioca bene diverte ma non vince mai è l'unica squadra infatti che ancora non ha mai vinto una partita e che di conseguenza è il fanalino di coda della Serie A e per questo motivo va assolutamente presa con le pinze e a Cremona probabilmente non ci sarà Rodrigo Becao che continua ad essere monitorato dallo staff medico bianconero dopo il problema che aveva accusato prima di Udinese Atalanta e che era tornato fuori a Roma contro la Lazio il numero 50 bianconero vuole esserci ma non bisogna correre rischi inutili la sensazione è che a Cremona difficilmente in realtà ci sarà con la speranza di riaverlo per la gara successiva quando i bianconeri ospiteranno il Lecce a proposito di Cremonese andiamo sulla Gazzetta dello Sport per gli aggiornamenti rispetto ai nostri avversari Arvedi conferma al Vini ma contro l'Udinese sarà l'ultima occasione la proprietà non è soddisfatta ma gli darà un'altra chance con un nuovo K.O. Andrea Zoli in pole per la sostituzione in panchina dalla Gazzetta dello Sport andiamo al Gazzettino con le notizie dedicate ai bianconeri in primo piano c'è la questione Becao che resta ancora ai box salterà la sfida contro la formazione lombarda il problema al flessore non si è risolto c'è invece fiducia per Perez e Bosse e Biol ma senza il brasiliano sono già arrivate 10 sconfitte via libera a 25.000 fan token questo è l'aggiornamento sul fronte tifo e poi ancora la Marcord con i doppi ex Turci Pizzi Tesser Mazia Burgnice Braida queste le strade che hanno visto incontrarsi Udinese e Cremonese nel corso degli anni una sfida lo ricordiamo che sarà seguitissima dai tifosi bianconeri con un vero e proprio esero verso Cremona mira da migliorare per andare in Europa l'Udinese continua a costruire molte occasioni 9 quelle col toro ma spreca troppo sul fronte mercato invece si avvicinano il brasiliano Mateus Martins e il bresciano Papetti queste le ultime notizie riportate oggi da Stefano Giovampietro le pagine del Gazzettino andiamo anche al basket l'Old Wild West con Nobile e Sherrill pronti alla riscossa sconfitto il Covid il club bianconero recupera due pedine molto importanti ci mancano il pre-making in attacco ma a Rimini giocheremo una bella gara hanno dichiarato e poi ancora per quanto riguarda il calcio di Lettanti Torviscosa da salvezza parla al presidente Midolini dopo la sconfitta di Domenica andiamo anche alle altre notizie con lo Scialpino voglia di riscatto per Vuzzi futuro papà gli ultimi anni sono stati molto difficili si guarda i prossimi appuntamenti con la Coppa del mondo dalle pagine del gazzettino a quelle del messaggero sempre per parlare di sport ritroviamo i temi legati anche al basket sul fronte di Inese invece c'è la questione Becao con due partite senza di lui il brasiliano spera di esserci tra due settimane per le ultime gare prima della sosta difesa ridotta all'osso con Perez Sbiole e Bosse probabili titolari Noiting riserva Alvini la fiducia a tempo ora dobbiamo fare punti andiamo avanti con dicevamo Cremona pronta l'evasione dei 2000 tifosi bianconeri venduta la maggior parte dei 2400 biglietti del settore ospite lo stadio Zini in arrivo anche il club delle zebrette all'estero per spingere la squadra di Sottil Traudine e Cividale sarà derby anche all'assemblea di Lega Majorano e Michalic candidati consiglieri per la NNP per la A2 le elezioni sono in programma sabato a Bologna sul basket giocato invece Nobile e Sherry il tampone negativi dubbio palumbo Briscoe sta bene a Cividale Lepore alla geste osserve il giocatore fuori dagli schemi Andiamo sul ciclismo con Manglio Mor il ciclista friulano protagonista con Milano nel quartetto azzurro su pista che dice penso di essermi meritato questo risultato dal prossimo obiettivo sono le Olimpia dice più felicità che rammarico l'oro lo conquisteremo nel 2023 Ci fermiamo qui con la nostra rassegna stampa vi ricordiamo gli appuntamenti torneremo live alle 12 con il nostro TG di pranzo poi nel pomeriggio lo sport alle 15 alle 16 ancora in formazione in diretta così come alle 19 dalle 17.30 come ogni mercoledì FWG Motori con Alberto Bertolotto e poi in prima serata ritorna Prime Donne con la nuova serie condotta sempre da Giorgia Bortolossi al debutto la protagonista sarà Gabriella Carlucci intervistata all'auditorium della Dacia Arena appuntamento alle ore 21 e 15 grazie a tutti per averci seguito ora le previsioni del tempo e l'augurio di una buona giornata un saluto e ben ritrovato ed un nuovo appuntamento con Trebi Meteo agli amici di Udinese TV alta pressione rimonta mercoledì sul frio di Venezia Giulia ne consegue un netto miglioramento tempo stabile assolato e un lieve rialzo delle temperature massime grazie a correnti in risalita più calde dal nord Africa ora osserviamo più in dettaglio cosa ci attendere tra Pordenone e Udine una situazione meteo tranquilla il tempo è stabile con cieli sereni o poco nuvolosi temperature massime attorno ai 22-23 gradi clima più fresco nella notte e all'alba seppur con valori minimi non così contenuti attorno ai 14-15 gradi ora uno sguardo a cosa ci attenderà su Gorizia e Trieste una situazione meteo analoga sole prevalente qui non mancherà qualche nube innocua di passaggio ma di poco conto non daranno infatti luogo a conseguenti effetti anche qui poche variazioni termiche valori di orni lieve rialzo attorno ai 22-23 gradi decisamente più contenuti valori minimi nelle aree più interne nella notte e all'alba dettagli maggiori sulle vostre località vi attendono come sempre sulla nostra app gratuita Trevi Meteo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.